Cari amici di Visione TV, bentrovati a una nuova puntata della nostra rubrica di approfondimento settimanale. Anche questa settimana è trascorsa all'insegna della guerra, proseguono i combattimenti e a quanto pare c'è stato un cambiamento nella strategia di Mosca che ora punterebbe esclusivamente al controllo o dal loro punto di vista alla liberazione del Donbass. Ma la guerra è anche una guerra economica che sta avendo risvolti decisamente pesanti soprattutto per l'Europa e per l'Italia e la crisi economica e crisi sociale rischia di trasformarsi, anzi si sta già trasformando in una crisi politica che potrebbe travolgere il governo di Mario Draghi. Ne parliamo tra pochissimo, io sono Arnaldo Vitangeli e questa è Sette Più. Dunque un'altra settimana di guerra è trascorsa. Sembrerebbe che l'esercito russo stia incontrando maggiori difficoltà di quelle previste. Con ogni probabilità questo è legato alla massiccia presenza di soldati stranieri, cioè di mercenari provenienti da varie parti del mondo e al flusso costante di armi che gli ucraini ricevono. Secondo Mosca invece tutto sta procedendo secondo i piani e l'operazione militare si sta svolgendo come era previsto. I russi fanno anche sapere che secondo le loro fonti sono appena 1500 i soldati russi che hanno perso la vita dall'inizio del conflitto mentre gli occidentali e gli ucraini sostengono siano più di 10.000. Quindi come sempre avviene ognuna delle fonti dà una realtà completamente diversa e in un caso e nell'altro i numeri vanno presi con le molle. Sta di fatto che sembrerebbe anche sentendo le dichiarazioni di alcuni generali di Mosca che il Cremlino abbia deciso una nuova strategia per la guerra e in particolare che voglia controllare, voglia liberare dal loro punto di vista esclusivamente il Donbass cioè le repubbliche che si sono dichiarate indipendenti e questo anche in base al fatto che queste repubbliche sono legate con degli accordi alla Russia in base ai quali i russi devono intervenire se vengono aggredite militarmente dal governo di Kiev, dal governo centrale dell'Ucraina. Ma al di là della guerra vera e propria, cioè della guerra sul terreno questo scontro si basa anche su una guerra economica che sta andando in maniera diametralmente opposta a quanto previsto. Se infatti inizialmente si riteneva che i russi avrebbero avuto una vittoria lampo nell'invasione dell'Ucraina ma che poi si sarebbe trattato di una vittoria di pirro perché l'economia russa sarebbe velocemente collassata sotto il peso delle sanzioni invece le cose vanno esattamente all'opposto dal punto di vista delle operazioni sul terreno pare esserci un ritardo dei russi mentre invece dal punto di vista della guerra economica Mosca se la sta cavando egregiamente e invece a pagarne le conseguenze sono soprattutto gli occidentali e in particolare gli europei. Gli americani hanno in particolare visto sotto attacco uno dei loro elementi fondamentali cioè quello monetario, il dollaro. Avrete sentito che la settimana scorsa Putin ha stabilito che il gas e il petrolio che la Russia vende agli altri paesi non sarà più possibile pagarlo in dollari o in euro ma dovrà essere pagato in rubli in questo modo la Russia rafforza la propria moneta il rublo ha riguadagnato tutto quello che aveva perso con l'invasione e con l'imposizione delle sanzioni ma soprattutto in questa maniera a entrare in crisi è il ruolo di moneta internazionale del dollaro che è essenziale perché con questo gli Stati Uniti finanziano il loro colossale disavanzo commerciale cioè gli Stati Uniti comprano più beni di quelli che vendono e quindi sono in disavanzo da decenni dal punto di vista della bilancia commerciale si tengono a galla grazie al fatto che il dollaro è la moneta di scambio internazionale e quindi se ne chiede molto e quindi è molto forte come moneta sui mercati ma questa forza è legata proprio alla vendita del petrolio e del gas il cosiddetto petrol dollaro e infatti gli americani hanno attaccato immediatamente qualunque paese produttore di petrolio avesse deciso di vendere l'oro nero non in dollari ma in euro o con altre valute oltre alla mossa di Mosca che vende il suo gas e il suo petrolio facendoselo pagare i rubli anche l'Arabia Saudita a sorpresa ha stipulato degli accordi con la Cina per vendere il petrolio saudita ai cinesi i quali però non lo pagheranno in dollari ma lo pagheranno in yuan nella moneta cinese questo è un pericolo per gli Stati Uniti davvero molto significativo e con la fine della fase unipolare in cui l'America era l'unica grande potenza pare stia finendo anche il dominio incontrastato del dollaro come moneta di scambio internazionale ed è proprio qui il punto cioè il motivo per cui la Russia non è crollata sotto le sanzioni è perché il mondo è cambiato l'economia oggi vede nuovi protagonisti gli Stati Uniti e l'Europa non sono più il centro del mondo economico e dunque la Russia è riuscita sta riuscendo a tenersi a galla vendendo le proprie materie prime le proprie risorse alla Cina la quale ha grandi risorse finanziarie e soprattutto la più grande industria del mondo e quindi riescono in qualche misura a fare a meno dell'Occidente cosa che invece non si può dire per gli occidentali e in particolare per l'Europa l'Europa si trova in una situazione davvero drammatica perché da un lato in una fase in cui già soffriva per un'inflazione altissima vede il prezzo dell'energia esplodere e questo ha conseguenze disastrose ma è solo la punta dell'iceberg perché con la divisione in due blocchi e quindi con l'interruzione della catena di produzione globalizzata agli europei non arrivano più le materie prime necessarie per produrre i beni non soltanto l'energia costa moltissimo e ne arriva meno ma anche tutte le altre materie prime come il grano che serve per fare la pasta il pane o la soia il mais che serve per la zootecnia i fertilizzanti che servono per l'agricoltura le terre rare i metalli, l'alluminio tutti questi materiali indispensabili per la produzione scarseggiano in sostanza la differenza tra il blocco diciamo cosiddetto nazionalista cioè la Cina e la Russia e i paesi satelliti e quello globalista cioè l'Europa e gli Stati Uniti è che con la globalizzazione noi abbiamo trasferito in questi paesi la maggior parte della nostra capacità produttiva la Cina è diventata la fabbrica del mondo perché noi abbiamo trasferito lì le nostre imprese ora quello che è rimasto da noi deve essere alimentato con l'energia e con le materie prime che arrivano dalla Russia e che non arriveranno più la situazione è così grave che uno dei massimi esponenti delle oligarchie finanziarie cioè Larry Fink che è il presidente di BlackRock il maggiore fondo di investimenti al mondo ha detto che la globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta è ormai finita e morta perché la globalizzazione si è basata su capitali e tecnologie e brevetti occidentali mano d'opera a basso costo cinese e materie prime ed energia russe e arabe dei paesi produttori di petrolio del vicino oriente ora questa catena si è spezzata ma a loro rimangono le industrie e le materie prime a noi rimane la finanza e con la finanza non si mangia per questa ragione l'allarme lanciato dal presidente di BlackRock che oltretutto conferma quello che noi diciamo da mesi appare particolarmente significativo tra l'altro ad andare in crisi non è soltanto la globalizzazione è anche quell'altro processo importantissimo e vitale per le oligarchie finanziarie occidentali e cioè la cosiddetta transizione verde BlackRock ha avuto in queste ultime settimane enormi perdite ma a essere a causa di queste perdite sono principalmente i fondi che hanno investito nelle imprese della green economy in pratica questa bolla colossale che veniva gonfiata sta scoppiando prima ancora di raggiungere il suo massimo livello ma oltre alla crisi economica che inevitabilmente si tradurrà in crisi sociale soprattutto in Italia starebbe arrivando è possibile che arrivi anche una crisi politica perché? perché in Italia ci troveremo a dover fronteggiare non soltanto un costo dell'energia proibitivo come già stiamo iniziando a sperimentare ma anche immense difficoltà per mandare avanti la catena produttiva perché ad esempio i settori dell'agricoltura e della zootecnia sono in ginocchio per quello che riguarda la zootecnia cioè l'allevamento abbiamo necessità di ricevere i mangimi la soia il mais che arrivano dalla Russia e dall'Ucraina e che non arrivano non stanno arrivando più al punto che gli allevatori stanno uccidendo la maggior parte dei loro animali perché non sanno più cosa dargli da mangiare contemporaneamente il settore agricolo è colpito dalla mancanza dei fertilizzanti anch'essi in gran parte provenienti dalla Russia o in parte dalla Cina che però non ci arrivano più e senza di questi noi non possiamo coltivare le terre con cui poi produciamo i nostri prodotti di eccellenza il vino o gli altri alimenti italiani di eccellenza la pasta in particolare ha bisogno del grano che o arriva dalla Russia o ha bisogno dei fertilizzanti della Russia per essere coltivato e anche l'industria sia per il costo dell'energia sia per mancanza di molti semilavorati in molti casi è costretta a fermarsi tutto questo porterà una gigantesca crisi economica e sociale e all'interno di questa crisi sociale diventa difficilissimo per Draghi mantenere in piedi la sua maggioranza Giuseppe Conte il presidente del Movimento 5 Stelle che deve essere rieletto ci saranno in questi giorni le votazioni sui canali del Movimento 5 Stelle ha già fatto sapere che non voterà per l'aumento della spesa militare la Nato quindi gli Stati Uniti quindi il sistema finanziario americano di cui Draghi è di fatto un esponente vogliono che i paesi europei portino al 2% sul PIL le spese militari ma in un momento di drammatica crisi sociale dire ai cittadini alla fame che devono con le tasse pagare le armi della Nato è insostenibile per questa ragione Conte nel tentativo di recuperare un minimo di rapporto con quello che era il suo elettorato ha fatto sapere che lui non voterà per l'aumento della spesa militare Salvini anche lui in totale crisi di consensi gli ha dato manforte dicendo sostenendo che non è di armi che ha bisogno l'Italia ma di investimenti per la produzione che c'è una crisi economica che le piccole medie imprese si trovano alla canna del gas eccetera ora Draghi in epoche in una fase molto meno turbolenta aveva fatto sapere che se il Parlamento non si limitava a obbedire a tutto quello che lui diceva lui che da lezioni non è mai passato avrebbe tolto il disturbo e se ne sarebbe andato su un tema così importante e così caro ai padroni di Draghi che non sono in Italia ma in America è difficile che possa ingoiare un no quindi il rischio di una crisi di governo è molto concreto in ogni caso la fine della legislatura per nonno banchiere che sperava anche di diventare Presidente della Repubblica sembra essere tutta in salita e concludiamo con una notizia di cronaca perché a Roma è successo qualcosa che fino a qualche anno fa poteva sembrare possibile solamente nei film davvero qualcosa che ricorda Arancia Meccanica un ragazzino un diciassettenne di Centocelle periferia est della capitale è stato rapinato da due suoi coetanei tunisini che gli hanno puntato un coltello alla gola mentre lui stava risalendo sulla sua minicar e gli hanno tolto i soldi che aveva e il telefonino successivamente l'hanno costretto a salire sulla macchinina e lo hanno fatto fermare in una zona isolata dove lo hanno violentato non contenti sempre con il ricatto del coltello alla gola gli hanno imposto di tornare a casa dove sono saliti insieme a lui hanno rubato quello che c'era da rubare e hanno violentato anche la mamma del ragazzino una donna di 57 anni e poi sempre tenendo in ostaggio il minorenne hanno ripreso la macchinina per allontanarsi c'era un tracciatore satellitale all'interno della minicar e quindi sono stati fermati dalle forze dell'ordine e arrestati con ancora il coltello in mano ora una notizia così spaventosa secondo me ci impone una riflessione come possono succedere queste cose in una città come Roma io ritengo che alla base di questo ci sia quel processo di disintegrazione dell'identità sociale e culturale cioè la devianza le forme più incredibili di devianza sono tanto più facili quanto più l'individuo non è inserito in un contesto familiare in un contesto sociale in un contesto religioso in un contesto che limita la natura per certi aspetti violenta che tutti gli uomini possono avere tutti gli esseri umani possono avere ma che all'interno della vita sociale è frenata dall'appartenenza a tutti questi contesti la società liquida che ci hanno imposto invece presuppone che fuori dall'individuo non ci sia nulla e che l'unico valore sia il denaro e il piacere di conseguenza è molto più facile in società come queste che la violenza si manifesti in queste forme estreme soprattutto per chi viene da altre culture e da altre realtà in cui i legami familiari i legami sociali i legami religiosi sono fortissimi questi individui vedono disintegrarsi la loro identità e di conseguenza sono molto più esposti degli altri a compiere questo tipo di violenza incredibile e raccapricciante una società che non si basi sull'identità sull'appartenenza e su legami stabili che non abbiano unicamente funzioni di natura strumentale ma che precedano e impongano una morale all'individuo tende ad essere sempre più violente quello che noi vediamo con i nostri giovani sia quelli italiani sia quelli stranieri che vivono a lungo nel nostro contesto sociale lo dimostra oltre ogni ragionevole dubbio questa brutta notizia era l'ultima per questa settimana io come sempre vi ringrazio e vi do appuntamento con 7 e più alla settimana prossima